Quali sono le strategie per un'intesa sessuale ed affettiva perfetta? Beh, intanto diciamo che cos'è l'intesa sessuale ed affettiva? O ci tengo a sottolineare sessuale ed affettiva perché sono due facce della stessa medaglia ma di solito quando sale una scende l'altra proprio perché, diciamo, la parte sessuale è la parte, se vogliamo, che emotivamente è più trasgressiva e la parte affettiva invece è la parte più istituzionale in fondo le coccole, le affettività, gli scambi d'affetti ci sono anche, ad esempio, tra madre e figlio tra madre e figlia all'interno della famiglia d'origine l'affetto, l'abbraccio è qualcosa di istituzionale e quindi quando in una coppia, in una relazione di coppia aumenta, diciamo, molto la parte affettiva la persona viene quasi etichettata, tra virgolette, a livello emotivo come un parente e allora diminuisce molto l'attrazione sessuale come se si ergesse, potremmo dire, il muro del tabù del tabù dell'incesto, diciamo così e quindi la persona, se identifica il, diciamo, il compagno o la compagna come un parente decade proprio l'attrazione sessuale la sessualità diminuisce, passa, diciamo, lo stimolo, l'erotismo viceversa, se c'è un forte, una forte carica erotica tende a essere minoritaria la parte sessuale sì, certo, ci sono le coccole, tutto, ma più finalizzate ad un aspetto erotico fondamentalmente ecco quindi che queste due facce della sesta medaglia vanno mantenute un po' in equilibrio perché se prevale eccessivamente una sull'altra ci sono i problemi da un lato che si tende a vivere una relazione leggermente anche anaffettiva dall'altro lato che è troppo affetto e quindi la sessualità diminuisce bisogna avere la forza e la capacità di mantenere l'equilibrio quindi come fai a trovare un'intesa sessuale ed affettiva perfetta? bisogna gestire entrambe queste forze non lasciare che una prevalga sull'altra è ovvio che in una relazione di coppia poi che dura nel tempo bisogna poi spingere molto l'acceleratore sulla sessualità perché è quella che tende a diminuire a scapito dell'affettività mentre invece all'inizio della relazione è molto forte la carica passionale e sessuale molto più bassa quella diciamo affettiva una cosa importante da fare ad esempio è quella di non avere un'eccessiva come dire intimità con la persona perché nel momento in cui la conosci anche profondamente nelle sue diciamo anche fisiologicamente, fisicamente diciamo si perde il mistero e quindi aumenta la parte affettiva ma diminuisce di molto quella sessuale per cui sarebbe opportuno se possibile mantenere un certo mistero lasciare che comunque la persona magari l'altra persona non essere sempre lì presenti ma se l'altra persona ha una sua vita propria amicizia propria eccetera si mantiene vivo quel pathos quel pizzico diciamo di gelosia che comunque dà un input positivo mentre invece diciamo se si eccede troppo dall'altra parte si rischia poi di avere una relazione dove non si condivide nulla quindi bisogna lavorare su questi dinamismi su questi meccanismi per trovare un punto di equilibrio che non sarà sicuramente la perfezione ma sarà un ottimo punto di equilibrio tenere presente che ogni volta che spingiamo sull'acceleratore dell'affettività e quindi eccediamo con le coccole si instaura questo rapporto di intimità che fa diminuire l'attrazione sessuale e viceversa però fisiologicamente diciamo che la parte sessuale inizia di solito alta poi piano piano scende scende si stabilizza magari per lungo tempo nella relazione di coppia diciamo a un livello costante affettività e sessualità costante poi l'affettività sale e di conseguenza la sessualità scende e quindi bisogna appunto avere questa forza questa capacità e mantenere comunque il mistero questo è fondamentale è mantenere un'area inesplorata in cui l'altra persona rappresenta sempre comunque un territorio da scoprire perché il territorio da scoprire è la chiave per mantenere vivo il mistero mantenere vivo il dubbio mantenere vivo l'erotismo e questo è una relazione a lungo termine fondamentale bene se questo video ti è piaciuto iscriviti al canale condividilo con i tuoi amici e seguimi sul blog seduzionevip.com ciao